Siamo tornati in diretta al Palabotteghelle, ve l'avevo promesso, c'è Paolo Albu qui con noi, una bellissima partita per te, peccato per il risultato finale. Sì, è stata una bellissima partita, è stato molto divertente tornare in campo dopo tanto tempo, peccato per il risultato finale, però ce l'abbiamo messa tutta e nonostante questo non l'abbiamo portata a casa, però rimane la felicità di aver giocato intanto. Finalmente di essere scesi in campo è più importante per tutti, adesso un po' di rammarico perché con Tebba, James, Warwick per cinque falli fuori probabilmente potevate dare una zampata ad un certo punto in questa sfida contro un avversario meritevole. Sicuramente, secondo me ha pensato anche l'assenza di Domenico Latella che a noi ci farebbe bene alla causa perché è un buon giocatore dove gestisce i ritmi e ci aiuta e così abbiamo fatto un po' di fatica, però nonostante questo se non avessimo fatto tra i lunghi cinque falli l'avremmo portato a casa secondo me perché eravamo dentro la partita. Ritorna in Calabria per questi ultimi mesi di campionato per questa Cicolta che partita clamorosamente a marzo, quali sono i tuoi auspici per questa vista? Ma io penso che noi vogliamo fare un buon campionato, vogliamo dare il massimo, sperando anche nel salto di categoria, poi non si sa mai cosa succede. Sì, sarà un girone secondo me complicatissimo, c'è da capire anche la seconda fase che ancora non conosciamo. Come hai visto il tuo compagno di reparto Adam Abba? Secondo me Adam Abba è mostruoso e che lui arriva da un problema al ginocchio, se aveva finito la cartilaggine si può dire e secondo me se lui è in forma non c'è né partita per noi perché secondo me siamo veramente forti, infatti oggi ha faticato molto e lui non è di questa categoria, secondo me è di due categorie superiori. Infatti io lo sto spronando tanto di dare il meglio e speriamo che rientri al meglio il prima possibile. Questo è il suo secondo allenamento, ha fatto due allenamenti più la partita quindi c'era da aspettarselo che non dava subito il massimo. Un'impressione su Forio? Forio è una buona squadra, il pivot soprattutto perché comunque lui era il più allenato di tutti perché io ho parlato un po' in campo, ho scambiato quattro chiacchiere, lui mi ha detto che non si è mai fermato, neanche quando c'era il covid ha giocato nella sua Serbia e è normale che era molto più preparato di noi, però anche gli altri non hanno fatto una bella squadra e alla fine hanno vinto per la maggiore età in campo si può dire, erano molto più vecchi di noi diciamo così. Bocca al lupo Paolo a presto. Grazie, grazie. Era Paolo Albo, io veramente è tutto con questo pomeriggio di pallacanesto, ringrazio i miei ospiti di Paolo Albo, i due coach di Visser Forio.